Giovedì 26 ottobre Giovedì della 29esimo settimana delle Ferie del Tempo Ordinario Calendario Romano SS Luciano e Marciano B. Buonaventura da Potenza, SAC OFM CONV 1651-1711 Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani 6,19-23 Fratelli, parlo con esempi umani, a causa della debolezza della vostra carne. Come avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità a pro dell'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Quando infatti eravate sotto la schiavitù del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Infatti il loro destino è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Salmi 1,1-2.3.4.6 Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così, non così gli empi. Ma come pula che il vento disperde. Il Signore veglia sul cammino dei giusti. Ma la via degli empi andrà in rovina. Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 12,49-53 In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, beh come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere, beh come sono angosciato, finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone. Si divideranno tre contro due e due contro tre, padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Santa Caterina da Siena, fu 1347-1380 Terziaria Domenicana, dottore della Chiesa, compatrona d'Europa Lettera 85 a Nicola Diosimo, ngrado 39, tradcb simbolo di copyright evangelizzo Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Mi ricordo, dolcissimo padre, d'una serva di Dio Santa Caterina e alla quale fu rivelato quanto è caro a Dio ciò che si fa per la Chiesa, e ve lo dico affinché siate incoraggiato a patire per essa. So che una volta fra le altre questa serva di Dio desiderava ardentemente dare il suo sangue, distruggere e consumare tutto in lei per la sposa di Cristo, per la Santa Chiesa, si sforzava con la sua intelligenza di capire il suo nulla e la bontà di Dio nei suoi confronti, vedeva che Dio, per amore, le aveva dato l'essere e tutte le grazie, tutti i doni che vi aveva aggiunti. Vedendo e gustando questo amore, questo abisso di carità, non vedeva altro mezzo per ringraziarlo che amarlo, non potendo essergli utile, non sapeva come provargli il suo amore. Allora cercava di amare per lui qualcosa che le permettesse di mostrare il suo amore. Ella vedeva che Dio ama di un amore infinito la creatura razionale, e questo amore ella lo trovava in se stessa e in tutti, perché noi tutti siamo amati da Dio, aveva dunque un mezzo di mostrare se amava Dio o no, poiché poteva così essergli utile. Allora si metteva con ardore ad amare il prossimo e sentiva un tale amore per la salvezza di lui, che avrebbe dato con gioia la vita per ottenerla. Così quest'anima, vedendo tanta grandezza e profondità nella bontà di Dio, e ciò che doveva fare per piacergli di più, aumentava sempre più l'ardore del desiderio, le sembrava che se avesse potuto dare la vita mille volte al giorno fino al giudizio finale sarebbe stato meno di una goccia di vino nel mare, beh e ciò è anche vero.